Servo a tutti! Qua è Eddie e Amelie e siamo qui oggi per presentarvi il gioco del post-it però prima di tutto io vi dico di iscrivervi al suo canale in massa prima di incorrere nella mia vendetta cioè la cagarella a fischio il gioco del post-it consiste in questo lei avrà il nome di un personaggio qui sopra voi lo vedrete ma lei no quindi io dovrò imitare quel personaggio beh molto bene mi va a fare questa cagata a me? però la famo lo stesso il canale è mio bene addio bene quindi devo imitare io? si è facile però vado perché io sono troppo bravo a fare questo personaggio non so non so non so non so chi è chi è? sticcio bravissima Allora, prima eravamo in tre e presto restarrimo in due e io sono uno di questi due davvero al laboratorio Allora, io penso che probabilmente sono io che sono brava a limitare, no? Beh, è il mio personaggio, eh? Comunque si è fatta bene, ho capito chi è, meno male Chi sono? Ma posso fare sta roba io, vabbè Questo è il personaggio serissimo, infatti prepara il fazzoletto Serissimo davvero, eh? Ah, eh, sicuro? Sì Ah, vado? Allora, il personaggio è un personaggio che fa Chi è? Ah, cioè È un cartone È un animale Allora, ok, quindi non è Dora l'esploratrice Ma quando mai che fai versi del maiale? No, è un... È lei È Peppa Pig È il mio idolo, sì Peppa Pig È il tuo idolo Ok, basta, stop Non mi si vede il mio canale Ah, per farlo mi metto così Ah, Maria Maria, oh mio Dio, mi sto sedendo, Maria Mi ha caduto la spalina, Maria Ma questa parla un po' con la B Con la B? Parla un po' così Ah, allora ho capito Ah, Maria, non ho capito Ho capito chi è Belen Ma Belen Grazie Chi sono? Guarda di là Dobbiamo salvare Cota Ma che c***o Devo fare questo davvero? Sì Guarda di là Guarda di là Dobbiamo salvare Cota Parli così Mi sa che ho capito C'è un po' la voce così Perché lui è incassato sempre È Bachman Beh, allora Boni State boni Sai, Maurizio, con il senso di magrismo Con il collo Maria Brava, Maria Ma lei mi sta dicendo che Titti è un maschio C'ha dei rettoni Ah, c'ha dei rettoni Difficile davvero Ti ricordi quella serie? Non si sa quale Corcoglio No No, no Si chiamava Noi No Che c'era? Elio Elio Barbara D'Urso Sì Ma senti un po', ma qual'è il tuo preferito da sti personaggi? Lo devo dire veramente? Sì Oh mio Dio, Maria, ma lo devo dire veramente, Maria No, ma lo devo dirlo veramente Perché? Sai com'è? Se vuoi veramente che io parli d'amore, Maria Io ti parlerò d'amore E lo sai qual'è il preferito mio? Un mio c'è quale Un mio c'è quale